La cultura come strumento per il reinserimento sociale, la riabilitazione dei detenuti e il messaggio forte di riscatto che arriva dal carcere di Salerno coinvolto nell'iniziativa nazionale adotta uno scrittore promosso dal Salone del Libro di Torino. Così la penna di Diego De Silva ha affascinato anche chi per la prima volta si è avvicinato a un libro, a raccontarlo allo scrittore napoletano proprio ai carcerati della casa circondariale di Forni. La possibilità di incontrare delle persone che scontano una pena detentiva e che hanno avuto occasione di leggere, di leggere nel caso un libro mio, ma mi auguro che ne leggano tanti altri, sono stato colpito anche dalla cume che molti lettori hanno. Come dire, la domanda intelligente è sempre gratificante, però la cosa che ti tocca di più è quando senti uno che ti dice non avevo mai letto un libro, adesso ne ho letto uno e mi piace. La lettura è anche un modo per dare speranza a chi vive il suo tempo recluso. Se il germe della letteratura riesce ad atticchire, secondo me, soprattutto per chi vive in una condizione di reclusione, speriamo provvisoria, sia un modo anche speranzoso di investire il proprio tempo, che di tempo lì ne hanno tantissimo. Pensare che la lettura può essere un'occasione di arricchimento è anche un piacere, perché è anche un piacere, questo devo dire che è l'aspetto che mi ha fatto più, mi ha più toccato.